Posso farmi la barba? Eh? La barba? Mi sono scordato. Posso farmi la barba? E fatti la barba? Sai perché Dio ha dato la barba a noi uomini? Perché? Perché così ogni tanto ci fermiamo a pensare. Io penso pure troppo per quanto mi riguarda. Lo so, tanto alla fine non cambierà mai niente. E in amore c'è sempre qualcuno che soffre. Mettici pure che tutto è lecito e vince chi fugge. E hai fatto il proverbio del secolo. Sì, ho capito, però alla fine è la verità. Qualcuno soffre sempre. E sai da che cosa deriva il tutto? Dal fatto che in realtà ad Amadeva non si amavano. Non erano innamorati, ste. Questo è il vero peccato originale. Era soltanto sesso. E gli è stato il posto. Un'unione combinata. Guarda che se loro si fossero amati veramente, ma veramente, a quest'ora ci sarebbe soltanto amore nel mondo. Da tutti quanti. Sì, ma visto che nel mondo un po' d'amore ancora c'è e qualcuno sa ma veramente, evidentemente tra Adamo e Deva uno amava l'altro, no? Sicuramente Adamo. Sì, ma visto che è stato un po' d'amore.